Un bastone, un bastone speciale, un bastone per ciechi, parlante, ideato da un artigiano del terzo millennio. Matteo Parlato lo ha incontrato alla fiera dell'innovazione Maker Faire. Vediamo. Regola la posizione. Posizione corretta. In piano. Questo non è altro che un bastone per ciechi o ipovedenti parlante. La semplicità di questo bastone è il fatto che finalmente il cieco o l'ipovedente non deve muovere il bastone a destra e a sinistra, ma basta che va dritto per la sua strada e il bastone darà tutte le indicazioni corrette. La tecnologia con la quale è stato realizzato questo bastone è molto semplice. Sono tutti componentistiche che noi troviamo sul mercato in maniera molto accessibile, facilmente replicabile. Qualsiasi persona cieca o ipovedente potrà avere più sicurezza nel suo cammino. Noi siamo degli artigiani del terzo millennio. Consideriamo che noi facciamo tutto in una piccola cantina, dove abbiamo il nostro materiale, le nostre componentistiche e ci divertiamo a fare questo come hobby. Abbiamo per adesso un altro lavoro, però nel nostro tempo libero lo impieghiamo esclusivamente a realizzare dei prodotti che possono dare un reale beneficio per le persone.